Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Vi avvisiamo già che è molto più probabile che questa puntata sia solo podcast, uscendo di venerdì, proprio perché l'argomento che stiamo per affrontare, ve lo diciamo già adesso, è molto lungo, molto complesso e pieno di un milione di sfaccettature e neanche troppo per modo di dire. Cioè è veramente qualcosa di pieno, qualcosa di irrisolto, qualcosa che continua tra l'altro ad avere lati oscuri sotto 2000 punti di vista, sia da una parte sia dall'altra, e qualcosa soprattutto che non va molto contestualizzato, ancora di più che spiegato. E proprio per questo, al di là poi di una sequenza di quelli che poi sono stati fatti, di questo conflitto che c'è tuttora, l'abbiamo visto, c'è la sfida in Italia e i giornali, non c'è bisogno, diciamo, di essere Einstein per vedere che c'è, fra turchi e kurdi. Lo diciamo proprio perché, come abbiamo già detto nel podcast precedente, troviamo che nell'opinione pubblica italiana ci sia una tendenza incredibile, soprattutto per questa questione, visto che altre come Israele o cose di questo tipo o non vengono affrontate o comunque vengono trattate in maniera molto più light, molto più soft, comunque ci sia una disinformazione generale riguardo alla questione turca, ma non tanto perché non si sanno i fatti, attenzione, cioè non è che noi stiamo dicendo questo, noi stiamo dicendo che è come se tutto ciò che è avvenuto nell'ultimo secolo in Turchia fosse niente, non esistesse, ok? E questo purtroppo è proprio il motivo per il quale ogni tanto, anzi ormai spesso, si sentono giudizi affrettati che noi non dubitiamo che siano fatti in buona fede, attenzione, ci mancherebbe altro, però naturalmente per parlare di un argomento così complesso e che ha, come abbiamo già detto, al suo interno un miliardo di sfaccettature perché per essere chiari nel 92 c'è stata una guerra dove i turchi combattevano al fianco dei kurdi iracheni contro PKK, per dire, quindi anche questo fatto qui che è complesso appunto, perché non si può dire né appunto che non c'è in realtà qualche problema con i kurdi, però non si può nemmeno dire che, diciamo, problema sia con tutti perché appunto, adesso lo vedremo, però appunto non ci interessa tanto la politica, quantomeno a quella attuale, eccetera comunque proveremo a affrontare, però non vogliamo fare un podcast di due ore per essere chiari, ok? quindi purtroppo dobbiamo concentrarci su qualcosa e noi pensiamo appunto che il contesto sia la cosa più importante quindi dobbiamo fare un salto indietro molto lontano in realtà, addirittura poco prima della caduta dell'impero ottomano perché? Praticamente, forse avevano già parlato nel podcast che parlava invece del libro, quello di Ahmed Altan nella storia, nell'ultimo periodo dell'impero ottomano, quindi per intenderci quello poco prima della prima guerra mondiale assistiamo un nazionalismo turco sempre più forte e sempre più divampante e tra l'altro questo, diciamo, va da contrappeso ad una sempre maggior richiesta di autonomia e di indipendenza da parte di tutte quelle minoranze che erano nell'impero ottomano ma che si sentivano anche in virtù di un'oggettiva perdita di potere e di denaro dell'impero ottomano sempre più grossa, addirittura in quel libro lì si vede come alla fine il sultano stesso viveva quasi come un barbone visto che erano finiti i soldi. Fa sì che siano alcuni, come ad esempio gli armeni preda anche di una voglia russa più che mai forte, diciamo, di penetrare in quello che era l'impero ottomano e comunque in generale tutte queste altre popolazioni come anche i greci, eccetera, che vivevano in quei territori sentono la possibilità di avere uno stato proprio, di staccarsi finalmente, diciamo così, dall'impero ottomano e quindi giocano molto su questo fatto, non so come dire. Tra l'altro la questione greca che noi non affrontiamo perché anche greca, armena, purtroppo ce ne sarebbe tanto da parlare è molto complessa però i greci de facto non ci sono più in Turchia, almeno sicuramente non nel numero che c'erano prima sicuramente non nei posti in cui erano prima, per essere chiari, tante altre popolazioni anche proprio perché con questo nazionalismo turco rappresentato in misura maggiore dai giovani turchi appunto si volle sempre di più turchizzare, diciamo così, l'Anatolia che fino a quell'epoca era stata sì, per carità il centro della cultura turca e tutto, però anche di tante altre. Questo poi ha fatto sì che con la prima guerra mondiale naturalmente ci sono le cose diciamo più pesanti e gravi anche perché oltre al genocidio armeno di cui parleremo sicuramente più avanti ho fatto addirittura al liceo, mi ricordo, una presentazione di questo quindi quando poi l'impero ottomano, già appunto il genocidio armeno ma comunque anche altre popolazioni iniziavano ad esserci venti di rivolta, venti di protesta e quindi li dovevano risolvere in qualche maniera ma in più quando l'impero ottomano perde di fatto allora gli iniziano i veri problemi perché c'è il trattato di Sevres che a parer mio diciamo di uno che minimamente si occupa del Medio Oriente e del mondo islamico come uno dei trattati più pesanti in assoluto che abbia ricevuto quella parte di mondo perché praticamente si passava da un impero comunque di dimensioni vastissime a svariati stati diciamo di dimensioni molto varie e che soprattutto dal mio parere e cioè dal nostro punto di vista non è... cioè il principio di autodeterminazione dei popoli per carità è sacrosanto però come è stato posto è stato... dal nostro punto di vista non è stato posto nella maniera adatta alla storia di quei luoghi ovvero tutti questi posti adesso fai naturalmente generizzazioni a Google però è per intenderci quindi perdonatemi appunto le mancanze di precisione e tutto ma buona parte di questi luoghi sono sempre stati sotto diciamo una grande potenza che poteva essere l'impero persiano che poteva essere invece l'impero ottomano appunto e anche altre forme di imperi ma tutte comunque grandi e che al proprio interno avevano tante popolazioni diverse l'impero ottomano da questo punto di vista era proprio vario all'inverosimile e la promessa di uno stato invece autonomo ha fatto sì che questo tipo di pensiero diciamo questo tipo di unione comunque di stare tutti insieme per carità adesso non è che uno deve dire ah quindi i kurdi e tutti stavano da Dio l'impero ottomano no c'erano state comunque rivolte c'erano state comunque problemi e tutto però se andate a vedere veramente su wikipedia le insurrezioni che ci sono nel corso dei secoli nel mondo kurdo per farvi un esempio vediamo un esponenziale e incredibile crescita da quando appunto l'impero ottomano crolla e anche l'Iraq eccetera non sono più cioè sono degli stati autonomi eccetera lì aumentano moltissimo proprio perché l'interesse poi è minore nel senso che le aree sono più piccole eccetera ma tanti problemi di cui non stiamo qua a parlare fatto sta che gli americani promettono questo fantomatico gli americani promettono il kurdistan ai kurdi e tra l'altro in un'area che appunto è quella più o meno che viene detta oggi del kurdistan quindi anche in buona parte della Turchia eccetera in quel momento lì come saprete dopo la disfatta totale dei giovani turchi sale diciamo prende il potere sale al governo atatürk che sarà colui che di fatto tra l'altro formerà creerà l'identità turca turca di quelli attuali appunto perché i turchi hanno sempre esistiti però i turchi fino a poco tempo fa si chiamavano ottomani diciamo e invece dovevano creare i turchi quindi ad esempio lui crea la lingua turca che fino a poco tempo fa non esisteva prima c'era l'ottomano che era molto diverso anche molto complicato eccetera e forma proprio l'identità turca naturalmente proprio in virtù del non essere più uno stato diciamo di tanti popoli con gli ottomani ovvero i turchi alla fine governare tutto c'era bisogno di uno stato che fosse solo turco ed è questo uno dei motivi per i quali i kurdi per moltissimo tempo fino a mi sembra gli anni 90 dal governo turco non vengono chiamati come kurdi bensì come turchi delle montagne questa è una, vi sembrerà una cretinata e tra l'altro è collegata anche a quello che vi ho già detto ieri riguardo a Nevruz invece che Neuroz proprio perché loro intendevano in quel momento lì creare una sorta di mondo turco e i kurdi vuoi per motivi geografici perché comunque è una zona se non mi sbaglio che per quanto montuosa eccetera abbia comunque diverse risorse importanti sia anche mi auguro spero per un fatto di comunque vicinanza etnica diciamo così alla fine i turchi e i kurdi l'abbiamo visto invece con l'articolo di Saladino se non l'avete visto andatevelo a vedere non mi ricordo penso di non aver fatto il podcast forse sì no l'ho fatto anzi sì Saladino era un kurdo che combatteva per i turchi di fatto e tutto sommato appunto non volle mai mancare troppo di rispetto per dire poi questo è un esempio naturalmente particolarmente celebre però i turchi e i kurdi storicamente hanno sempre collaborato poi naturalmente con alti e bassi e tutto ma soprattutto nell'impero ottomano c'erano buona parte comunque delle forze turche che erano kurde eccetera fatto sta quindi il formarsi della nuova repubblica turca non si possono concepire i kurdi appunto e devono essere devono diventare in tutte le maniere di fatto turchi e quindi ci sono tutta una serie di problemi perché naturalmente come ogni volta che si va e questo l'abbiamo visto ad esempio in Spagna lo vediamo in questi giorni a toccare molto l'identità di un popolo che per carità ha delle affinità in realtà non cioè più storiche con i turchi che diciamo di altro tipo però diciamo comunque ha una vicinanza sempre convissuti insieme se tu vai a togliere soprattutto proibendo perché non è che tu sconsigli dici per favore fai un'altra cosa tu dici proprio è vietato questo è vietato quello è vietato quest'altro vai a creare di solito un sentimento che o diciamo viene non eliminato però viene attutito da una situazione comunque economica florida da una situazione politica stabile eccetera ma se tu fai questo e in più tra virgolette non dai nessun vantaggio a quel tizio per cambiare un po' eccetera è naturale che poi scoppino problemi naturalmente io lo sto affrontando in maniera molto leggera poi qui nel mezzo ci sono stati massacri uomici lì a destra ma anche perché da quando appunto si forma la Turchia moderna comunque quelle aree ci sono stati dei periodi dove c'è stata fra virgolette più pace, più tranquillità ma comunque è stata sempre una situazione abbastanza tesa ecco fatto sta adesso noi diciamo già no perché preferiamo essere chiari pur conoscendo fra virgolette bisogna sempre approfondire bisogna sempre studiare di più la storia del mondo arabo in quel periodo lì storico quindi circa dagli anni 50 andando fino al presente per dire noi abbiamo diverse lacune riguardo a quella turca ed è proprio per quello che ci interessa tanto ed è proprio per quello che ci tenevamo a fare questo podcast per avere la scusa fra virgolette per andare anche noi a farci una cultura andando a leggere da wikipedia comunque queste sono le nostre fonti almeno lo diciamo almeno non sembra niente tutto parte di fatto c'erano già state tensioni come abbiamo detto in passato questa non si era mai placata del tutto ma il conflitto diciamo riprende e inizierà fra virgolette per davvero negli anni 70 mi sembra fra il 74 e il 76 UKLN fonda il PKK che inizia già da subito diciamo a grossi problemi con la Turchia perché tra l'altro questo è un altro particolare che io ci tengo a specificare e se avete visto Beru ve ne siete accorti perfettamente a differenza di altri paesi come ad esempio i paesi sudamericani soprattutto quelli adesso sempre generalizzazioni però è per intenderci del centro Sud America tipo come non so la Colombia questi paesi qua dove tendenzialmente variando nel corso del tempo eccetera però si può dire che sono dei paesi molto più vicini come idee magari a socialismo comunque ideali di sinistra ecco la Turchia no la Turchia invece nella loro testa loro sono ancora soprattutto diciamo dopo Ataturk quindi dopo la nascita proprio della Turchia loro sono quelli i Gokturk nell'ideale è chiaro che appunto con 2000 differenze eccetera però loro sono i Turchi che vengono appunto da il Turkestan quindi dei guerrieri quindi della gente di ferro quindi della gente appunto legata molto anche come idea all'onore al fatto che appunto tu sei il guardiano Beru è ancora più esagerato però lì cioè proprio è la conclamazione di questo cioè in Beru ogni due per tre ha Ataturk i militari che bello l'onore la patria queste cose però sono effettivamente all'interno di buona parte della testa dei turchi quindi quando Ökelen inizia a fare sempre di più propaganda per la formazione di uno stato curdo che sia indipendente che sia staccato che sia autonomo questo non viene per niente cioè già nella normalità basta di pensare a un paese come l'Inghilterra noi siamo su noi abbiamo sempre diciamo sostenuto comunque la causa dell'Irlanda libera eccetera quindi ci mettiamo benissimo nei panni capiamo benissimo quello e purtroppo ci siamo messi anche dei panni degli inglesi per capire un po' se tu o quelli di Madrid eccetera se tu dici io voglio creare uno stato nel tuo e quindi quel terreno lì che prima era tuo eccetera su cui esercitavi il tuo dominio tu possesso adesso è di un'altra entità che potrebbe addirittura essere fra virgolette nemica perché di solito e sono pochi i casi fortunati nei quali un conflitto si risolve stringendosi la mano c'è l'esempio appunto della concessione di Gerusalemme a Federico II questo è un esempio che mi fa sempre mio nonno però diciamo tendenzialmente non sei amico di chi ti toglie una parte di terra per intenderci fatto sta che inizialmente in realtà ho visto che grazie a Turgut Özal che era all'epoca primo ministro o presidente adesso non lo ricordo esattamente la situazione viene tuttavia abbastanza gestita perché anche questo Turgut Özal era mezzo curdo e quindi non c'era minimamente la volontà di creare cioè naturalmente la questione era molto complicata molto complessa molto tesa però si tendeva ad avere dei buoni rapporti si tendeva per intenderci il cambio di rotta fra virgolette evidente anche dal suo predecessore perché noi in realtà l'avevamo letto poi ci siamo resi conto una volta che stavamo dicendo che mancava quel pezzo e quindi siamo tornati un attimo indietro perché nel 1980 invece il tutto diciamo si era fortemente acuito in quanto c'era stato un colpo di stato che aveva messo al potere K'nanevren quindi immaginatevi già se c'è un colpo di stato figuratevi sicuramente non sono particolarmente amici non è gente particolarmente e poco interessata a utilizzare le armi ecco per essere chiari fatto sta che invece c'è con Turgut Özal Turgut Özal scusate la situazione cambia anche perché lui è il primo fra virgolette a cercare di andare un po' incontro i kurdi visto che come vi abbiamo detto era per parte kurdo e quindi ad esempio prova a far sì che la lingua appunto si possa di nuovo parlare kurdo tranquillamente senza problemi eccetera purtroppo i suoi tentativi non riescono del tutto e quindi i problemi con i kurdi continueranno tanto più che come vi dicevamo tanto più che con la morte di Özal si riapriranno assolutamente le violenze perché Demirel accetterà quello che è chiamato Kaleplan che praticamente sarà un piano di lotta senza quartiere diciamo ai tenti kurdi al PKK utilizzando anche la guerriglia locale perché nel frattempo non dimentichiamoci il discorso nazionalismo turco che era ancora presente e tuttora ci sono i lupi grigi che sono una banda di nazionalisti turchi che appunto come potrete immaginare non vanno molto d'accordo con i nazionalisti kurdi o comunque con chi voglia creare uno stato nel frattempo bisogna dire che anche i kurdi all'interno di loro stesso chiaramente avevano dei problemi perché Öcalan non aveva sempre ottenuto il supporto di tutti in più all'interno del PKK si erano comunque create correnti la vedevano in maniera diversa non so se vi ho fatto già il discorso anche di un nazionalismo di base turco perché piccola parentesi questa ho tipo cancellato sei minuti perché mi sono dimenticato che c'era stato questo castle plan e quindi per non incasinarvi troppo siamo tornati indietro eccetera fatto sta i turchi già di base loro da quando è arrivato Ataturk si immaginano come i gokturk per intenderci quindi Öcalan non aveva attirato neanche all'interno della turchia sto incasinando il PKK ha un'ideologia fortemente marxista o comunque a sinistra molto schierata è tutto naturalmente se tu hai questo tipo di ideologia in un paese che per storie invece è molto legato all'esercito ai militari all'onore non all'onore è sbagliato da dire scusate però quest'idea del proprio il guerriero che va che combatte e questo si vede benissimo da Beru è ancora più facile creare al proprio interno all'interno di quell'area lì della gente che la penserà in maniera abbastanza diversa fatto sta che a un indice ancora di più di queste difficoltà comunque interne che aveva il PKK c'è da dire che nel 92 quindi tutto suonato anche non troppi anni dopo tutto ciò che abbiamo appena detto ci sarà questa guerra nell'Iraq del nord dove adesso lo prendiamo con una parentesi perché abbiamo trovato effettivamente sulla nostra fonte cioè wikipedia però l'abbiamo trovato solo una volta ma abbiamo trovato un altro avvenimento che spiegherebbe il tutto sembra che Öcalan per consolidare la propria leadership anche all'interno del mondo kurdo abbia dato a Saddam Hussein delle informazioni riguardanti alcuni dei gruppi kurdi dell'Iraq e che quindi cioè in cambio di alcune armi e che questi di fatto quei gruppi questi gruppi kurdi dell'Iraq che poi subirono massacri e tutto fecero poi invece un accordo con la Turchia proprio per difendersi fra virgolette scacciare il PKK dalle loro terre infatti questi 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 kurdi un casino vabbè facciamo per voi lo facciamo per la conoscenza per tutto però è veramente più complicato di quello che sembra non è un modo di dire fatto sta che appunto i Turchi si allearono quindi con questi Iraq nel nord per scacciare questo a maggior ragione è testimonia come anche all'interno del mondo kurdo sia molto complicata la faccenda molto caotica e tutto di fatto poi ci saranno ancora diversi scontri più o meno intensi con anche dei cessati il fuoco in mezzo ma alla fine degli anni 90 Öcalan verrà catturato in Kenya tra l'altro un'operazione con il supporto della CIA per dire e poi verrà appunto portato in Turchia dove fortunatamente a prescindere non rischierà la pena di morte perché durante il processo e tutto proprio in quegli anni verrà eliminata questa pena quindi fortunatamente o fortunatamente oppure no non so non mi interessa noi non abbiamo parte qua forza sta è ancora vivo ecco e proprio in quegli anni lì tra l'altro inizia a formarsi una forza che a differenza di quello che la gente pensa a differenza di quello che la gente sta dicendo adesso paradossalmente la più grande amica dei kurdi da tempi memory ovvero AKP cioè AKP non so come lo volete dire fatto sta il partito di Erdogan perché rispetto a tanti altri partiti Erdogan invece inaugurerà una vera e propria strategia di dialogo una strategia di apertura verso il popolo kurdo una strategia di di chiacchiere di conversazioni di trattative questo vi sembrerà assurdo lo so benissimo ma basta andare a vedere wikipedia due secondi appunto toglierete qualsiasi dubbio ma anche da qualsiasi altra parte addirittura sotto la presidenza di Erdogan vengono intavolate proprio delle trattative con Öcalan che è in prigione e proprio lo stesso Öcalan nel 2015 nel 2013 lo stesso Öcalan scriverà proprio una lettera per il Neuroz dove appunto dirà sostanzialmente che adesso noi non sappiamo il turco così bene nemmeno il kurdo da poter tradurre non l'abbiamo trovato però sostanzialmente si dirà estremamente contento per questi dialoghi che stanno funzionando tanto che appunto lo stesso Erdogan lo ringrazierà e addirittura ci sarà un ritiro delle truppe da alcune aree dove appunto erano entrambe in concomitanza adesso non vogliamo dire insieme perché poi sembra veramente un film strano con i kurdi i turchi in mano a mano con le arcvalini forse non è andato proprio così però il fatto sta c'è un ritiro delle truppe insieme e c'è sostanzialmente c'è stato il fuoco a tutte le parti i problemi ripartono nel 2014 perché nel 2014 c'è l'assedio di Kobane dove i kurdi che stavano resistendo in Siria perché comunque al solito il mondo kurdo il mondo turco sono molto più complessi di quello che sembra quindi c'erano questi i kurdi a Kobane che vengono attaccati dall'ISIS e loro accusano la Turchia di non aver fatto non di non aver fatto niente addirittura di aver aggiorato in qualche maniera i combattenti dell'ISIS e poi da qui siamo alla situazione che vediamo adesso diciamo questo è stato un riassunto il più breve possibile ve lo giuro abbiamo saltato un sacco di cose non abbiamo saltato il fatto che in questo conflitto non c'è un buono non c'è un cattivo l'unica differenza vera che potete fare è quella legata alla causa cioè se voi ritenete che ogni singolo territorio adesso sembra un modo di dire però è vero se voi ritenete che tendenzialmente bisogna andare verso stati piccoli con tante indipendenze piccole o comunque diciamo credete a non avete come idea quella diciamo di un mondo con tanti stati grandi però tu dove la gente sta bene insieme e ne volete più piccoli allora è meglio però appunto noi non ci schieriamo da nessuna di queste due parti veramente l'unica cosa importante sono i civili e che questi si siedano è un sogno che si siedano a un tavolo e discutere però le trattative si fanno così quindi speranza è quella detto questo appunto i turchi hanno ucciso uccidono in questo momento in particolare perché sono in atto questi attacchi però in passato hanno ucciso eccetera lo stesso hanno fatto comunque i pkk perché ricordiamo che come abbiamo detto all'inizio il pkk noi che conosciamo ovviamente la storia dell'Irlanda lo parliamo all'Ira quindi un'associazione un gruppo che punta l'indipendenza di un paese però per farlo non si fa problema utilizzare la violenza e dove è necessario anche quella sui civili proprio per questo pkk è un'associazione terroristica poi uno appunto può dire no ma secondo me no però per buona parte dei paesi del mondo non tutti questo bisogna specificare pkk è considerato un'associazione terroristica detto questo ancora noi speriamo soltanto per i civili speriamo che questo conflitto si fermi al più in fretta possibile speriamo il nostro auspicio poi è complicato ma se non ci si spera neanche è meglio allora che non lo si dice almeno la speranza ce l'abbiamo che un giorno il prima possibile queste tensioni questi conflitti termino veramente perché hanno solo da guadagnare kurdi e turchi e stare insieme ad rispettarsi ognuno con l'altro quindi autorizzare questo lo dice anche veramente un insegnamento addirittura della lingua kurda un mantenimento del patrimonio culturale kurdo e delle proprie origini ma allo stesso tempo ci dispiacerebbe se per far questo dovesse esserci uno stato autonomo dovessero fare ancora la guerra dovesse esserci ancora sangue vite versate e onestamente tanto tanto problemi causati per qualcosa che si è importante fondamentale ma che comunque non può giustificare la violenza penso che voi siete tutti d'accordo e questo per qualsiasi situazione anche per ad esempio il conflitto palestinese dove noi siamo assolutamente a favore della palestina non abbiamo nessun problema a dirlo anche lì l'ideale sarebbe la speranza che qualcuno si insedesse al tavolo di essere in proprie ragioni e si riuscesse a combinare qualcosa con entrambe le parti e questo è il problema intenzionate a veramente combinare qualcosa perché a spararsi non è che si risolva tanto si continua si continua guardate quanto tempo ci sono questi conflitti ancora non si è risolto forse è il caso di provare qualcosa di nuovo sedersi al tavolo parlare veramente e parlare con tutte le intenzioni soprattutto dopo avremmo altro da dire ma poi se no ci finisce il tempo del podcast quindi seguiteci su facebook instagram sul nostro sito